21 aziende, di cui 20 pugliesi, hanno riconvertito la loro produzione e adesso hanno messo in vendita le mascherine filtranti. Sono le aziende e le imprese che hanno partecipato al progetto Riapro, di cui il Politecnico di Bari è stato coordinatore, per produrre dispositivi di protezione individuale in conformità alle norme vigenti. Il progetto è stato coordinato, oltre che dal Politecnico di Bari, anche della protezione civile dalla Regione Puglia. Marilena Pastore. In un solo mese sono 20 le prime aziende che, seguendo le direttive impartite dal Politecnico di Bari, hanno iniziato la produzione e commercializzazione delle mascherine filtranti adatte alla popolazione. Il 16 marzo, infatti, il Politecnico di Bari ha avviato questa nuova progettualità dedicata all'emergenza coronavirus, denominata Riapro. Si tratta della riconversione aziendale per la produzione di DPI, dispositivi di protezione individuale, coordinata con la Regione Puglia e la protezione civile. Le 20 aziende sono dislocate su tutto il territorio regionale e coprono tutte le province, ad eccezione di quella d'Auna. Per la provincia di Bari, 11 aziende, 7 per la BAT, una per la provincia di Taranto e una per quella di Lecce. Infine, c'è anche un'azienda campana, che è stata ammessa al finanziamento per la riconversione aziendale. In totale, si stima una potenziale produzione complessiva giornaliera di circa 300.000 mascherine. A questo elenco, a breve, potrebbero aggiungersi anche altre aziende che hanno chiesto supporto al Politecnico, con conseguente aumento di produzione. Per ciò che riguarda la produzione delle mascherine per medici, infermieri e soggetti di primo intervento, FFP2 e FFP3, i tempi sono invece più lunghi. In totale, sino a questo momento, le aziende che hanno contattato il Politecnico sono state oltre 250. Di queste, 160 hanno manifestato l'intenzione a produrre mascherine filtranti. Altre 25 si sono proposte per produrre anche altri articoli. Il 95% delle aziende che hanno contattato il Poliba sono imprese medio-piccole pugliesi, per la maggior parte operanti nel settore delle confezioni e settore tessile. Alcune, invece, più grandi, come Natuzzi, FAS, IGAM e Sanigem. Il 35% di queste ha sede operativa in provincia di Bari, il 30% nella BAT, il 20% nelle province di Lecce e Brindisi, il 15% nella provincia di Foggia. Il restante 5% proviene dalle regioni confinanti, dunque Basilicata, Campania, Molise, ma anche Abruzzo, Toscana e Lombardia.